Deborah, tu lo sapevi che le donne battono gli occhi il doppio degli uomini? No! E che le zanzare sono attratte dal colore blu? E che... E tu lo sai che il mercato tutelato dell'energia sta per finire? Ma va! Controlla subito la tua bolletta, se in alto trovi la parola tutela, hai ancora poco tempo per cambiare. E quindi? Rottama la tua vecchia bolletta, portala in uno dei nostri punti energia, se lo fai entro il 31 luglio 2018, per te un bonus fino a 60 euro sulla fornitura di luce e gas. Balleca Monica Servizi Vendite, fallo subito, così non ci pensi più. E tu lo sapevi?